Un blitz caotico avvenuto senza seguire le procedure opportune nonostante la presenza di alti dirigenti della polizia. E' emerso tra l'altro questo negli interrogatori di oggi in procura a Genova a proposito dell'operazione compiuta alla Diaz. Era il giorno più atteso con le deposizioni di Vincenzo Canterini, capo del reparto mobile di Roma e del suo vice, Michelangelo Furnier. I due erano finiti nel mirino dopo le dichiarazioni dell'ex responsabile dell'antiterrorismo, Arnaldo Labarbera, che li accusava di aver deciso autonomamente il blitz. Furnier difeso dagli avvocati Romanelli ha spiegato quale avrebbe dovuto essere la corretta procedura per l'irruzione. Circondare la scuola, intimare col megafono alle persone che si trovavano dentro di uscire, quindi lanciare i lacrimogeni, perquisire quelli che uscivano ed infine l'edificio. Secondo quanto trapele i verbali sono stati infatti secretati, tutto sarebbe invece avvenuto in maniera caotica con le forze di polizia allo sbando. Assieme ai vertici del reparto mobile ascoltati altri due capi squadra, domani altri interrogatori. Intanto sempre oggi l'avvocato Laura Tartarini, legale di Casarini, ha consegnato al PM Zucca un video, nel quale si nota chiaramente come all'interno della Diaz, all'arrivo del reparto mobile di Roma, ci fossero già nella scuola altri agenti.